Buongiorno a tutti, siamo qua a Palazzo Belvul, comune di Sanremo, insieme a Yuri Frau, che è lo sviluppatore di Sanremo Plus, che è il nuovo sito di promozione turistica appunto del comune della Città dei Fiori. Sì, ciao a tutti. Sanremo Plus è stato creato grazie agli utenti, agli cittadini e turisti che ci hanno indicato di fare qualcosa di particolare per la città. Dopo sette anni passate fuori Sanremo, sono tornato e mi sentivo turista. Allora mi sono detto, devo fare qualcosa in modo che il turista si senta di nuovo cittadino o essere un nuovo cittadino. Quindi ho creato qualcosa basandomi sui cosiddetti feedback, detto all'inglese, di cui mi diceva cosa si può fare, cosa si deve fare. Ho creato Sanremo Plus grazie a mia associazione, l'Inville Group, associazione no profit di professionisti e imprese, sede qui a Sanremo. Siamo tutti coalizzati per il territorio e siamo coalizzati insieme a comune di Sanremo che ci appoggi in questo nuovo esperimento, se così vogliamo chiamarlo. Grazie mille.